Buongiorno e bentrovati dalla redazione del Tg della mobilità. Oggi in centro deviate per tutto il giorno le linee bus 51, 75, 85, 87, 118 non percorreranno via dei fori imperiali chiusa per la consueta pedonalizzazione festiva. Da domani a mercoledì dalle 22 alle 6 tre notti di lavori sulla Roma-Fiumicino a cura di Anas sarà chiuso lo svincolo Parco dei Medici in direzione Fiumicino mentre sul raccordo anulare chiuderà l'uscita centro-euro. Le altre notizie anche oggi traffico da bollino rosso sulle strade italiane con spostamenti sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione delle regioni del nord e verso i grandi centri urbani ma anche in direzione delle località di vacanza. Da segnalare che oggi dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della mobilità.